adesso vi insegno a fare lo sciroppo di piantaggine lo sciroppo di piantaggine è uno un ottimo rimedio per la tosse allora io ho raccolto della plantago lanciolata non solo la plantago lanciolata ho raccolto anche della plantago mayor vedete e ho raccolto anche le infiorescenze eccole qua le infiorescenze che andremo ad usare sono queste che non hanno ancora gli stami ben evidenti quindi ecco il periodo balsamico della piantaggine quindi il periodo in cui ha le concentrazioni ottimali dei principi attivi è proprio questo poco prima della fioritura quindi quando ci sono solo le foglie e magari solo qualche fiore infiorescenza ancora chiusa così è il periodo balsamico perfetto potete utilizzare tutti i tipi di piantaggine nella plantago lanciolata però la plantago lanciolata è la specie officinale c'è sempre nello stesso genere una specie che è considerata officinale quindi che ha più proprietà rispetto alle altre quindi se dovete scegliere una piantaggine scegliete quella lanciolata detto questo però si possono utilizzare tutti i tipi di piantaggine ok eccola qua quindi per prima cosa ho raccolto della piantaggine questa è la prima fase la seconda fase è quella di andare a tagliare la piantaggine con delle forbici questo perché perché questo permetterà allo zucchero di avere un effetto osmotico maggiore su tutte le parti della foglia più la spezzettiamo più la botanica verrà aggredita dallo zucchero questo sciroppo gli sciroppi si possono fare in tantissimi modi diversi ma la piantaggine ha la particolarità che va usata solo fresca perché essiccata perde tantissime proprietà e non va fatta scaldare perché una volta che voi la fate scaldare andate a ridurre fortemente le proprietà gli studi indicano una perdita di proprietà con l'essiccamento e con la cottura fino al 60 per cento quindi andate a ridurre fortemente le proprietà per quello che vi insegno e insisto per fare lo sciroppo di piantaggine a freddo ovviamente voi potete farlo anche a caldo però dovete sapere che perdete le proprietà stessa cosa perdete le proprietà quando la cuocete quindi quando la utilizzate in cucina andate a sfruttare il sapore di fungo della piantaggine ma con gli alimenti non andate a estrarre tutti i fito complessi della piantaggine ok e anche l'altra cosa è l'essiccamento perché la piantaggine andrebbe usata solo fresca quindi con l'essiccamento andate a ridurre tantissimo è meglio utilizzarla anche fuori dal periodo balsamico ma fresca rispetto a raccolta nel periodo balsamico e fatta essiccare addirittura gli studi indicano proprio che comunque anche se non è nel periodo balsamico fresca più proprietà che essiccata pur nel periodo balsamico altra cosa della piantaggine la piantaggine ha soprattutto sostanze idrosolubili vedo che tanti fanno anche l'oleolito di piantaggine però ecco andando a vedere le sostanze i fito complessi presenti nella piantaggine fare l'oleolito è un pochettino uno spreco perché i principi attivi sono principalmente idrosolubili eccola qua torniamo al nostro sciroppo una volta spezzettata semplicemente andiamo a qua ve lo faccio vedere in un piatto in un vaso di vetro ad alternare strati di piantaggine e strati di zucchero lo zucchero deve essere almeno il doppio o il triplo del peso della piantaggine quindi se mi raccogliete 50 grammi di piantaggine mettete almeno 150 grammi di zucchero 150 grammi di zucchero una volta che avrete ricoperto la vostra piantaggine di zucchero magari con le mani andate proprio a mescolare piantaggine zucchero la riporrete in un vaso di vetro chiuderete il vaso e lo lascerete esposto al sole il sole accelera accelera il processo di estrazione da parte dello zucchero dei fitocomplessi della piantaggine allora questo sciroppo non è legato alla necessaria presenza nel sole nel senso che il sole va a aumentare l'estrazione aumenta la velocità di estrazione ma non è necessario tant'è che ad esempio maria treben addirittura questo sciroppo lo fa ponendo poi il vaso seppellito in giardino e quindi a temperatura costante perché il vero il vero attore colui che estrae principi attivi della piantaggine è lo zucchero lo zucchero col suo potere osmotico va a estrarre i principi attivi io vi consiglio di utilizzare lo zucchero bianco sì quello che fa malissimo perché a parte che qualsiasi zucchero fa male quindi non è che adesso credete alla favoletta che lo zucchero di canna fa meno male dello zucchero bianco tutti gli zuccheri fanno male alla stessa maniera lo zucchero bianco però non solo ha il potere osmotico maggiore ma poi soprattutto quando ha estratto i principi attivi cambia il colore diventerà marrone e voi vi accorgerete quindi che il processo è andato a buon fine ed è quello il momento di filtrare il vostro sciroppo nel vaso dove metterete piantaggine e zucchero potete aggiungere anche chiodi di garofano perché i chiodi di garofano hanno un effetto anestetico e siccome spesso la tosse è proprio data anche dall'irritazione i chiodi di garofano vanno a togliere quella tosse da irritazione potete aggiungere anche altre piante lenitive come la malva oppure ad esempio fiori di verbasco vi ricordo che tutti i verbasco hanno una grande capacità di ridurre la tosse quindi piantaggine verbasco è il top se poi mettete anche i chiodi di garofano avete uno sciroppo fantastico quando lo zucchero ci vorranno circa 20 giorni avrà estratto tutti i principi attivi dalla piantaggine sarà diventato marrone non si sarà sciolto del tutto voi cosa fate prendete il vostro vasetto lo fate scaldare a bagnomaria mi raccomando che l'acqua del bagnomaria non deve bollire però quindi deve essere attorno ai 50 gradi in pochi secondi lo zucchero che è pregno ormai di tutte le sostanze che estratto dalla piantaggine si scioglierà e a quel punto potete filtrare il vostro sciroppo con questa dose di zucchero lo sciroppo si conserva tranquillamente anni io l'ho appena finito uno sciroppo che ho fatto tre anni fa se volete una volta che avete filtrato lo sciroppo potete aggiungere anche del miele ma non è necessario ecco per aumentare sempre l'effetto becchico della piantaggine che altro ultima cosa il vaso ovviamente va esposto alla luce del sole va lasciato chiuso chiuso per 20 30 giorni finché vedete proprio che la piantaggine è diventata marrone completamente secca sembra quasi carta e lo zucchero anch'esso è diventato marrone allora a quel punto vuol dire che il vostro sciroppo è pronto potete scaldarlo e filtrarlo eccolo qua questa qua la ricetta dello sciroppo di piantaggine